Un disagio, io sono disperata! Disperazione e viaggio della speranza. In questo, negli ultimi giorni, si sta trasformando lo spostamento dei viaggiatori treni d'Italia che da Brindisi devono giungere nella capitale o nelle città situate nella tratta che collega il capologo messapico a Roma. Il disagio è dovuto all'interruzione della linea Foggia-Caserta, iniziata martedì 12 marzo, causata da un movimento fronoso. Questo è il tipico viaggio di chi in queste ore si prova a spostare da E per Roma verso Lecce e Brindisi. Partivo da Brindisi per Caserta, però ho fatto il viaggio della speranza anche all'andata. Al ritorno? Adesso dovrò prendere forse un autobus in questa stazione per poi arrivare a Caserta. Come vedete, inquadrato dal display alle 11.38, era previsto una freccia d'argento che da Lecce arrivava a Roma. Adesso lo stesso treno invece arriva a Foggia per poi essere deviato. Una soluzione però ci sarebbe. I treni a alta velocità possono essere raggiunti da Brindisi a Taranto, da dove stanno partendo per Roma senza problemi. Purtroppo però, ci comunicano a microfoni spenti da Trenitalia, non tutti accettano i disagi che diversi spostamenti provocano e a quel punto bisogna proprio ingegnarsi. Se si volesse poi acquistare il biglietto online, l'impresa è praticamente impossibile. Come vedete da queste immagini, l'impatto delle interruzioni si traduce in ritardi, disagi e cambiamenti improvvisi nei servizi. L'interruzione e disagi dureranno circa un mese con la ripercursione negativa per le vacanze pasquali e gli operatori turistici hanno già lanciato un grido d'aiuto a Trenitalia. Si resta in attesa di una soluzione ufficiale che forse arriverà. Grazie.